Buongiorno a tutti, cari colleghi e colleghe. Oggi siamo qui, come diceva il Presidente Nazionale ieri, per celebrare un importante appuntamento federativo che è l'Assemblea di metà mandato. Un'Assemblea che, come sapete, non è fatta giusto per fare, ma è fatta per verificare con attenzione e valutare gli effetti e l'efficacia delle politiche federative in questi anni, attraverso le azioni che sono state spiegate ampiamente dal Presidente, ma soprattutto anche dai vostri dirigenti regionali e provinciali, che partecipando agli organi centrali dovrebbero, in molti casi hanno riportato, quella che è stata l'azione della federazione in questo periodo. Oggi, pur nell'eseguità del tempo, dobbiamo approfittare di questa occasione anche per eventualmente rilanciare l'azione politica e proporre eventualmente aggiustamenti o proposte che possano rilanciare l'azione e renderla più efficace a livello federativo e politico. Ho visto con piacere la partecipazione di molte persone, vedo una partecipazione molto interessante e sono contento. Questo significa anche che la federazione vive, che è viva e vive soprattutto di quella identità e quel senso di appartenenza che ci hanno tramandato i nostri predecessori, quelli che 40 anni fa erano la splendida intuizione di costituire questa federazione che oggi è per noi un valore imprescindibile, al quale non possiamo rinunciare. Noi siamo noi, ci sentiamo uniti, rappresentiamo una categoria ma soprattutto rappresentiamo noi stessi nel nostro lavoro. In questi due anni, cari amici, non è stato facile. Ci sono stati degli avvenimenti, delle questioni politiche gravi sulle quali si è dovuto intervenire. A livello politico, come tutti, abbiamo verificato e conosciuto, a livello sindacale. La nostra professione è stata veramente il nostro modo di operare. La nostra filosofia sul nostro lavoro è stata posta sotto attacco, neanche tanto velatamente, sia dalla politica che è delle forze economiche per affermare e strutturare una liberalizzazione veramente senza regole, dove tutto è possibile a tutti, dove tutti fanno tutto, cercando di appiattire o addirittura annullare quelle che sono le peculiarità del nostro lavoro, le specificità intrinseche del nostro lavoro che sono, a parte quello della terzietà, ma quella dell'etica professionale nel nostro agire. Ebbene, rispetto a queste questioni, la Federazione ha reagito in modo sempre pronto, sempre pronta, voglio dire. Il Presidente nazionale, nella sua azione politica, è stata sempre vigile, attenta e qualificata, unitamente, e di questo voglio ringraziarlo, ma voglio ringraziare anche tutti quelli che con lui hanno collaborato, che sono stati coinvolti. In questa azione tanti dirigenti regionali, provinciali, che quando sono stati chiamati alle armi hanno risposto e hanno collaborato in modo perfetto con il Presidente nazionale, oltre a alcuni membri del Comitato esecutivo che hanno svolto più che un'azione su specifici settori, ma più un'azione di carattere politico, come d'altronte si era stabilito. Oltre a questo abbiamo dovuto affrontare un altro argomento molto difficile e molto importante. In un momento come questo, dove le risorse sono veramente a lumicino, abbiamo dovuto rivedere e ottimizzare le spese e i costi della Federazione, facendo anche alcune azioni che sono state anche dolorose, come quelle della riduzione dell'organico. Non senza difficoltà, qualche volta anche con qualche asprezza, perché c'è qualcuno sempre che trova difficoltà ad andare verso il futuro e cerca di arroccarsi sempre sul passato come se fosse un porto sicuro. Ma oggi dobbiamo avere un'altra visione, perché il mondo è cambiato e cambia a una velocità talmente veloce, scusate la ripetizione, che se non siamo pronti e attenti a reagire ci troveremo sempre indietro. È chiaro che ci è dispiaciuto ridurre l'organico, molti collaboratori, molti dipendenti che erano con noi da molto tempo, ma non si poteva fare altrimenti. L'obiettivo è quello di far raggiungere la Federazione una autonomia finanziaria, significa questo senza contare sui proventi, sulle retrocessioni, più o meno delle partecipate, ma riportare in sicurezza il bilancio della Federazione facendo conto solo sulle nostre forze e sul tesseramento. Anche questo non è stato facile, però con l'aiuto di tutti e con la comprensione anche delle strutture territoriali, che inizialmente hanno pensato che qua finisce tutto, non finisce niente, si rimodula. Noi dobbiamo spingere verso il cambiamento e adeguarci noi stessi verso il cambiamento. E sembra che anche con questa rimodulazione pesante la struttura regge. Stiamo approntando dove è necessario alcuni correttivi, ma insieme a voi sicuramente ci riusciamo. Oltre a questo, poi mi fermo perché il tempo è talmente breve e voglio dare spazio agli altri, è stata affrontata anche la questione della ottimizzazione della rappresentanza politica della Federazione che rispetto a molte altre risulta abnorme, proponendo anche dietro alla richiesta della Giunta nazionale che ha ben lavorato in questo senso, io le ringrazio, delle modifiche statutarie che andavano a ridurre il numero della rappresentanza, ma non la sostanza della rappresentanza. E quindi abbiamo approvato in prima lettura nell'altro Consiglio nazionale le modifiche statutarie e ieri abbiamo approvato in seconda lettura, quindi diamo atto comunico che da oggi le modifiche statutarie sono immediatamente esecutive, eccetto quelle che sono state deliberate con la data del congresso 2017, dove ci ritroveremo tutti insieme a discutere, spero in modo tranquillo, del futuro della nostra Federazione. Io voglio concludere perché non voglio trattare altri argomenti, se non risulterei ripetitivo rispetto a quello che ha detto il Presidente, non mi sembra il caso di tediarvi, anche perché conoscete tutti, almeno quelli che fanno parte degli organi direttivi nazionali, provinciali e regionali, le azioni che sono state poste in campo e quindi è inutile che le ripeto. Voglio solo concludere con un ringraziamento. Intanto voglio ringraziare tutti quelli che con me hanno collaborato in questi due anni in un compito quasi invisibile, se è invisibile significa, penso che un po' funzioni, che mi hanno messo nelle condizioni di lavorare con serenità, aiutandomi quando necessario, consigliandomi quando necessario e sostenendomi quando necessario. E di questo li ringrazio, parlo del Comitato Esecutivo, dei dirigenti regionali e provinciali che operano sul territorio con una brengazione bellissima, rendo il contatto con gli associati e ricordiamo che gli associati sono la cosa più importante per noi, è il senso stesso della Federazione, sono gli associati. Noi siamo quelli che rappresentiamo gli associati, spero di rappresentarli sempre meglio perché devo dire che al di là della maggioranza dei collegi dove si rischia anche l'eccellenza c'è qualche collegio dove qualcuno magari occupa una poltrona da tanto tempo e ha voglia di replicare se stesso, oggi magari non riesce più a replicare nemmeno se stesso. Quindi forse è il caso che chi è stanco lasci spazio a qualche altro che abbia volontà e lo spirito per portarci verso il futuro. Io concludo qui, voglio solamente adesso a termine del mio intervento, vi ringrazio intanto per l'ascolto, ringrazio tutti, chiamare qui vicino a me il Presidente della Commissione elettorale per leggere i risultati della votazione di ieri e personalmente vi saluto e grazie per avermi ascoltato.